L'assessore Michele Gioia Che è lì già gioioso per raccontarci quello che ha fatto in Regione Allora Gioia, ovviamente è un argomento molto serio perché parliamo del piano di zona, dell'ambito Insomma è un po' di tempo che raccontiamo della necessità di cambiare ambito rispetto a battipaglia Insomma le cose a questo punto come stanno? Innanzitutto buonasera ai telespettatori e grazie come al solito dell'opportunità Grazie alla sindaca e a voi Settimana scorsa noi siamo stati in Regione E per un'indisponibilità da parte della sindaca per impegni già assunti precedentemente Ci siamo arrivati in Regione Io con i due consiglieri comunali, il dottore Bovi e Rossella Speranza Per poter essere ascoltati per un'audizione fondamentalmente In sesta commissione regionale permanente La cui presidenza è del dottor Amabile Siamo soddisfatti di quanto è accaduto in commissione E soprattutto perché abbiamo riscontrato una grande disponibilità Della parte politica regionale e della parte tecnica Quindi crediamo che la nostra istanza venga accolta Ovviamente per una questione di correttezza Anche come d'accordo con la sindaca Abbiamo informato anche i sindaci di Bellizzi e di Olevano Circa l'esito dell'audizione in sesta commissione Quindi da parte dell'amministrazione c'è molta soddisfazione circa questo incontro Gioia che tempi abbiamo? Perché questa è la cosa ovviamente importante Allora noi entro sette giorni dobbiamo fornire un'integrazione di fatto di corrispondenza Che c'è stata tra i due comuni Quindi tra Battipaglia e Ponte Cagnano Ovviamente per quanto attiene alla parte sociale, ai servizi sociali I tempi su questo voglio dire In settembre potremo insomma navigare in questo nuovo ambito? Non credo, non credo Io me lo auguro ma assolutamente non credo E né come amministrazione vogliamo dare delle aspettative che poi saranno disattese Ma ripeto fondamentalmente perché non tutto dipende da noi Quindi noi abbiamo già inviato anche qui come d'accordo tra i sindaci Quindi tra la sindaca di Battipaglia e quelli di Bellizzi e di Olevano Una lettera a firma degli altri due sindaci per la fuoriuscita dall'attuale piano di zona Insomma diciamo che nei prossimi mesi la situazione dovrebbe migliorare E quindi sicuramente avere servizi migliori per le persone in difficoltà Questo è diciamo l'obiettivo? Assolutamente sì Io ci tengo, permettetemi di ringraziare l'amministrazione tutta Perché questo è stato un lavoro fatto di concertazione Ed è stata seguita quella che è la linea dettata da questa maggioranza Quindi c'è stato un lavoro di concertazione che ci ha permesso di essere credibili Voglio dire non c'era solo il Presidente ovviamente della Sesta Commissione C'erano anche altri tre consiglieri regionali di maggioranza C'era la delegata dell'assessore Fortino più altri dirigenti della regione Campania Quindi voglio dire anche abbiamo ricevuto i complimenti anche per l'impostazione del ragionamento fatto E quindi è una cosa che ci ha fatto davvero molto piacere Grazie Gioia Sindaca Allora ieri c'è stata una conferenza stampa importante Si è parlato di tante tematiche Ma quello su cui volevo un attimo fare un passaggio veloce Perché molti si chiedono appunto questo Benedetto Assessorato Dopo che Onnembo è andato via Insomma a chi va e quali potrebbero essere le deleghe di questo Assessorato L'Assessorato avremmo fatto prima il bilancio E poi ne avremmo discusso con l'intera maggioranza È una scelta che faremo in accordo con il Vice Sindaco Come le scelte che spesso facciamo E quello che abbiamo chiesto, di cui abbiamo bisogno Ho visto anche le figure degli Assessori già presenti Che sono delle figure che professionalmente sono molto valide Quello che noi abbiamo chiesto è avere la possibilità di scegliere Su una rosa di nomi su cui poter individuare Una figura di alta professionalità Una persona capace di interloquire con il pubblico Capace di interloquire con l'amministrazione e con gli uffici Quindi è una persona svelta, precisa Ma che dedica parte del tempo Perché, ripeto, questo è un comune in cui i problemi sono veramente tanti Molto di tutto anche l'Assessorato è un Assessorato che impegna molto Perché quello che ci siamo resi conto È l'assenza di una figura politica che si occupasse principalmente di attività produttive Politiche agrarie e commercio Ah, quindi avranno questa Sì, Alba rimane in capo a me Ovviamente con l'aiuto anche sia di consiglieri comunali Ma anche lo stesso Ugo Da portare avanti In vista di tutta la ristrutturazione che dovremo fare delle partecipate Ma ci siamo resi conto Ad esempio il commercio che tenevo io come delega È stato un po' così, con tutti i problemi che ci sono Quindi abbiamo l'esigenza di individuare una figura Che costantemente possa dialogare con i commercianti Ma anche con quella che è la politica C'è il mondo agrario, agricolo se vogliamo Visto l'enorme importanza che ha nella nostra Settore agroalimentare Settore agroalimentare è molto importante E in vista anche, avevamo già detto di fare questa consulta dell'agricoltura Che è prevista I regolamenti sono già pronti Diciamo che sono un po' lenti ad arrivare in commissione Ad arrivare quindi in consiglio comunale Ma è già tutto pronto e avviato Insomma, quindi Questo è un settore che vorremmo sicuramente potenziare Assolutamente sì Anche perché ci sono aziende importanti E quindi anche un bel indotto Anche a livello di occupazionale Quindi lavorando su questi settori è possibile anche incrementare Insomma la produzione E quindi anche l'occupazione Quindi ci sarà un assessorato che si occuperà di questo Alba rimane alla sindaca Ma sarà comunque un'incommenza importante Incommenza importante Infatti la sindaca non è che è da sola Ma un po' la gestiamo insieme Come dicevo, sia con il vice sindaco Sia con il consigliere Desio Giusto e vero Giuseppe Salvatore Insomma, sono delle persone che mi stanno dando una mano Non indifferente Perché il problema esiste Non è facile gestire tutta la città Con le poche unità che abbiamo Effettivamente stiamo in affanno in questo settore Perché con tutta la buona volontà Non riusciamo a tenere sotto controllo Tutti i quartieri di Battipaglia Sono 16 spazzini giornaliermente fissi Ogni tanto ne aggiungiamo qualcuno in più Arriviamo a 20 A volte vengono utilizzati per la differenziata Insomma, non è facile Poi mettici anche la cattiva Per fortuna non di tutti i cittadini Ma, voglio dire, cattivi abitudini Che spesso i cittadini Cittadini, una minoranza per fortuna Quello di buttare a terra le carte Quello di buttare secchi Insomma, sacchetti di immondizia Microdiscariche che aumentano A volte mi chiedono se aumentano In maniera, vuol dire, studiata O se effettivamente sono aumentati gli abusivi Non lo so Però effettivamente non è facile controllare La città così come si costituisce Avete pensato magari a qualche strategia Per rieducare un po' i cittadini? Ma guardi, noi abbiamo iniziato da tempo Nelle scuole Con l'educazione civica Stesso in accordo con Alba Già con l'assessorio Nembo in precedenza Abbiamo fatto queste iniziative Ma costantemente stiamo a contatto con le scuole Con i manifesti Abbiamo fatto una campagna pubblicitaria Però tu ti stai rivolgendo A quella che è la futura generazione Il problema è andare Insomma, un po' ad educare Quelli che sono gli adulti Le abitudini degli adulti Gioia, a proposito di scuole State facendo un bel lavoro Insomma, diciamo Lei è considerato Tu sei considerato Insomma, l'assessore tra la gente Insomma, quelli che un po' tutti vogliono bene Perché si occupa comunque degli studenti Delle scuole Insomma, di questi argomenti Un po' più vicini al popolo Insomma, come ti stai muovendo In questo settore? Innanzitutto ti ringrazio Ma questo sia Credo che Io per delega Voglio dire sono quello Che ha un po' più il rapporto Con la parte sociale della città Ma ovviamente Tutti gli altri assessori I consiglieri comunali Voglio dire Sono un po' Consiglieri comunali E assessori della gente Quindi hanno un po' tutti Questa caratteristica Con le scuole Noi abbiamo inteso Programmare In che senso? Settimana prossima O al più tardi Tra dieci giorni Sto aspettando le risposte Da parte di tutti I dirigenti scolastici Ci sarà un incontro Con Ho coinvolto Come credo giusto che sia L'assessore Vecchio E l'assessore Provenza Con l'ingegnere Angione L'architetto Mirra E l'ingegnere Ruggero Il Geovetra Greco Più ovviamente Tutti i dirigenti scolastici Per Definire Quella che è la programmazione In vista del nuovo anno scolastico E non essere approssimativi Come spesso capita Alle amministrazioni Comunali In genere Noi speriamo Di fare eccezione Sotto questo aspetto Quindi di programmare il lavoro Che bisogna in qualche modo fare Ed essere pronti Con la riapertura delle scuole Senza accusare Particolari contraccolpi Quindi sia sul patrimonio energetico Saranno Un po' più Gli interventi Un po' più Markati Sia sotto l'aspetto Anche strutturale Quindi ci sono impianti Ripeto Patrimonio energetico Ma anche A modernamenti Piccoli ovviamente Perché non è che abbiamo Una capacità Di spesa Così importante Da intervenire strutturalmente Siamo pronti Approfitto Così faccio una panoramica Sì però veloce gioia Ormai ha imparato In mezzo alla comunicazione Gioia anche lui Come tanti altri parla Ti rubo giustamente Per fare una panoramica Un po' più ampia Quindi saremo pronti Per l'11 maggio Con i bandi Per gli impianti sportivi Playground Quindi impianti Leggeri all'aperto E per fine mese Saremo pronti Anche con i bandi Sugli impianti sportivi Tutti Ci sarà Saremo pronti Anche con la Partiremo anche Col banco alimentare Credo che Entro il 15 maggio Ci sarà La delibera Di approvazione Quindi ci sono Un bel po' di cose Sulle quali Stiamo lavorando Sindaco Una delle Notizie di questi ultimi giorni È stato appunto Il Il Tar Che ha Rigettato Insomma Il ricorso Dell'opposizione Insomma Uno dei primi ricorsi Proprio i primi giorni Dell'insediamento Quando ci fu Il riequilibrio di bilancio Insomma E quindi Si misero in discussione Anche i due I due incarichi All'interno Dello staff Del sindaco Insomma Una bella soddisfazione Una bella soddisfazione Polverone inutile La notizia è di ieri E voglio dire Noi eravamo convinti Che tutte le Procedure Utilizzate Fossero regolari Io Spero Che la finiamo Con questi ricorsi Con questo clima Di terrore Ricorsi Querele Cioè vuol dire Questa città Ha bisogno Di andare Avanti Abbiamo visto Che cosa significa Essere commissariati È una città Che aveva Delle potenzialità Enormi In 25 anni Abbiamo una media Ogni due anni e mezzo Un commissario Questo spiega Perché questa città Probabilmente È la più colpita Tra le città Della provincia Di Salerno Nonostante Per sua fortuna Si trova In un terreno A lei favorevole Quindi chi Auspica Uno scioglimento Del Consiglio Comunale È un irresponsabile Perché Non si può Volere La morte Di una città La mortificazione Di una città Cioè fare ricorso Per annullare Gli atti Per annullare Il riequilibrio Perché bisogna Riandare di nuovo Al commissariamento Vuol dire Che è fatto Da persone Che sono Degli irresponsabili E noi ci siamo Mossi nel senso giusto Ci auspichiamo Invece Che ci sia Più collaborazione L'opposizione Deve fare L'opposizione È giusto È giusto Che controlli Però Vogliamo Che il ragionamento Venga fatto In maniera più alto Si parli Si affrontano I problemi Di questa città Quando c'è la possibilità Di collaborare Perché no Vorremmo Che il confronto Sia fatto Su questo E quindi Noi speriamo E ci auguriamo Che questi ricorsi Siano lasciati Alle spalle Spero che Voglio dire Ho sentito dire Addirittura Che si vuole ricorrere In appello Ma insomma Spero proprio di no Perché è mortificante Per questa città Torniamo però A quelli che sono Le problematiche Quotidiane e giornalieri Sappiamo che spesso I social Ci aiutano A scoprire velocemente Magari i problemi E a risolverli Come magari anche A volte creando Degli allarmismi E questo volevo Chiederle Sindaco Proprio per tranquillizzare Chi sta a casa Ma parlo sia di Eboli Che di Battipaglia Perché poi questa notizia È rimbalzata da Battipaglia A Deboli E quindi improvvisamente Anche a Eboli Si parla di allarme E zecche Che per l'amor di Dio Il periodo c'è Il periodo è questo Insomma Il periodo comincia A far caldo E quindi le problematiche Ci sono Ma c'è un allarme E zecche? Beh Credo che ci sulta No Dopo aver verificato Ovviamente Perché subito Ci siamo messi In allerta Abbiamo Abbiamo allertato La dirigente La responsabile Dell'ambiente La dottressa Costantino Ha chiamato La ditta Che fa i controlli Abbiamo fatto i controlli Nei luoghi pubblici Nelle scuole E non ci risulta Assolutamente Che ci sia Un allarme zecche Poi per quanto riguarda Se ci sono Questioni che possono Riguardare dei privati Questo non è Di nostra competenza Però per tutti Gli ambienti pubblici I controlli Sono stati fatti Quindi c'è già Anche previsto Una serie di Un elenco Ovviamente È previsto Tutto un elenco A zone Lo renderemo pubblico Il pubblico Sicuramente A breve E lei lo può rendere pubblico Al telegiornale Sulle zone Dove noi attiveremo Ma questo è previsto Sempre L'area di disinfestazione Che andranno Un po' per zona Questo ovviamente È previsto Che saranno previste Penso per tutta l'estate Per tutta l'estate Sicuramente Benissimo Allora Gioia Quali sono i prossimi Step Immediati Insomma Ormai siamo quasi Alla fine Della scuola I bambini Saranno molto felici Ma anche Soprattutto gli insegnanti Saranno molto felici No Ma a parte gli scherzi Avete pensato a qualcosa Per la fine dell'anno Non so Una grande festa Non so Noi siamo Sempre Voglio dire E questo non mi stancherò Mai di dirlo Veramente un grazie Sentito e di cuore Quotidiano Ai dirigenti scolastici Ai collaboratori Degli stessi Gli insegnanti E anche Ai tantissimi genitori Questa esperienza Mi ha dato modo Di conoscere Un ambiente Non sconosciuto Ma poco conosciuto Ed è Un ambiente Per noi Di un'importanza Fondamentale Ci sono delle rappresentazioni Teatrali Che stiamo mettendo In campo Con alcuni Dirigenti scolastici Abbiamo già iniziato Ma Soprattutto ci tengo A dire Una cosa Noi abbiamo avuto Due settimane fa Un incontro con i dirigenti scolastici Con l'associazione libera Ovviamente Sempre su Con l'accordo della sindaca Per mettere in campo Un progetto di legalità Un po' in legalità Che vede Insieme Queste tre istituzioni Per dare forza A un progetto Che Nel quale noi crediamo molto Che è quello della legalità E che riteniamo Voglio dire Debba partire inevitabilmente Ineduttabilmente Da quelle che sono Di abbassare un po' La sticella E non dedicarlo più Solo ed esclusivamente Alle scuole superiori Ma portarlo anche E soprattutto Nelle scuole medie Abbiamo trovato Accoglienza Da parte di tutti I dirigenti scolastici E credo che Nel giro di qualche settimana Firmeremo una sorta Di accordo Tra appunto Queste tre istituzioni Anche e soprattutto Su progetti Che possono essere Finanziati Proprio per dare Maggiore forza E credibilità Ai progetti stessi E soprattutto Per dare un segnale Di discontinuità In un paese Come Battivaglia Che crediamo Ingiustamente Accusato di certe cose Ma soprattutto Per dare Modo Ad altre Come quelle che sono La legalità Cause nobili E importanti Di venire fuori Sempre di più A discapito di altre Grazie Michele Sindaco Insomma siamo In chiusura Credo che la prossima settimana Quando ci vedremo Avremo anche Chissà Forse proprio il nuovo assessore Seduto al posto di gioia Può essere Giovedì prossimo Che non andano a casa No Che fisicamente Seduto al posto di gioia Penso che ce la facciamo Non lo so Giovedì Non lo so Non lo so Ci sta ancora pensando Insomma per il momento Abbiamo la certezza Delle deleghe E della rosa Di candidati Però per il resto Vediamo Allora grazie Grazie a voi tutti Grazie a Michele Grazie a voi Come sempre ci avete seguiti Mandateci un email Se volete fare una domanda Al sindaco In maniera ufficiale Senza usare Facebook Potete tranquillamente Usare Sud TV Quindi redazione Sud TV Chiocciola Gmail Punto com Oppure ci contattate Sul profilo Facebook Appunto Grazie per essere stati con noi Appuntamento Al prossimo giovedì Grazie a tutti